Sotto l'albero di Natale i gestori privati dell'Exilva troveranno i milioni di euro dei contribuenti regalati dello Stato mentre la fabbrica va verso la chiusura. E questa la tesi dell'esecutivo nazionale dell'Unione Sindacale di Base che, nella giornata in cui si attendono risposte dall'Assemblea dei Soci di Acciaieria d'Italia con un nuovo round per trovare l'accordo tra Governo e Invitalia, annuncia una manifestazione nazionale proprio a Taranto per protestare. All'indomani, tra l'altro, dell'ennesima doianza espressa da parte dell'appalto senza stipendi. Il Governo ha deciso di mettersi in subordine alle scelte di una multinazionale. Non a caso è deprecabile il fatto che il futuro industriale del nostro Paese si giochi dentro l'Assemblea dei Soci che è stata prima convocata poi rinviata alla giornata di oggi e fa sorridere che il Governo scelga di attendere questa Assemblea per derimere le politiche industriali che guardano il futuro dell'Italia. I lavoratori hanno bisogno di risposte che non sono quelle che oggi può dare una politica che ha deciso di asservirsi alle logiche delle multinazionali, delle imprese, della gestione del privato che fino ad oggi non ha portato alcun risultato. Una fabbrica che sta chiudendo, noi l'abbiamo detto chiaramente al Ministro Fitto, nel momento in cui sarà ufficializzato il passaggio ad Arsenal Orbital con la gestione dei soldi pubblici, secondo noi lì sarà decretata la fine della fabbrica così come la conosciamo. Voglio ricordare che l'accordo sottoscritto il 6 settembre 2018, di quell'accordo a nessun punto è stato mai rispettato, neanche i canoni d'affitto. In Kazakistan, che non è il massimo della democrazia, il Presidente di caccia via dopo la strage accusandoli di non fare investimenti, in Italia invece per farli rimanere gli diamo pure miliardi di euro, tra l'altro i soldi dei contribuenti. Intanto a potenza prosegue il processo che vede accusato Capristo che avrebbe piegato la sua funzione di procuratore di Taranto agli interessi dei vertici dell'exilba. Grazie. 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 Grazie.